Gli ultimi veli sono stati tolti. Da martedì 14, domenica 19 maggio, San Giustino e l'Alta Valle del Tevere, Tosco Umbra, ospiteranno le finali nazionali maschili Under 19 di pallavolo, che porteranno in zona le migliori espressioni nazionali della categoria. Un grande evento non soltanto sportivo, perché vi saranno ricadute anche a livello turistico. Un riconoscimento importante intanto per il Comitato regionale Umbria e ringrazio i miei consiglieri che collaborano e collaboreranno affinché l'evento possa essere svolto nel migliore dei modi. Essere in Alto Tevere per me è davvero un orgoglio, perché l'Alto Tevere ha sempre rappresentato per la pallavolo un po' la culla. E quindi ritornare con forse le finali più importanti, l'Under 19 maschile, con tanti atleti che militano già in Serie A. Nello specifico arriveranno 27 squadre e 378 atleti in totale, più altre 1200 persone stimate fra addette lavori e famiglie, per un totale di 95 gare più la finale. Tre i comuni coinvolti, oltre a San Giustino, quello di Città di Castello e di San Sepolcro sul versante Toscano. 5 gli impianti nei quali si giocherà Pala Sport a San Giustino, l'impianto di Selicilama, Pala Iona a Città di Castello, Pala Femac a Trestina e Palazzetto dello Sport di San Sepolcro. 4 le società di supporto, Città di Castello Pallavolo, Trestina Volley, New Volley Borgo San Sepolcro e ovviamente Pallavolo San Giustino, che nell'organizzazione dell'evento ha potuto contare sul fondamentale supporto di FIPAV Umbria. Essendo un evento importante ci sono comunque delle responsabilità a partire da oggi, anzi già abbiamo iniziato da qualche giorno cercando di dare l'immagine che merita questo evento perché nella settimana di maggio, come sappiamo, arriveranno 27 squadre composte da più di 20 atleti, più tutte le famiglie, procuratori e quant'altro. Quindi dal 14 al 19 maggio la Valtiberina dovrà rispondere presente anche perché non è un discorso della Pallavolo San Giustino soltanto. Sì, noi siamo il comitato organizzatore insieme alla FIPAV Umbria, però credo che sia giusto che l'intera vallata, come lo è, d'altronde la presenza di tutti i sindaci oggi a questo evento, rappresenta che c'è la volontà di portare in Italia il verbo della Valtiberina. Umbria ha da sempre tempio della Pallavolo, la sinergia di un territorio che sta sempre più abbattendo i confini di Campanile e soprattutto quelli politico-amministrativi e il concetto emerso durante la presentazione. Abbiamo fatto le prove generali già l'anno scorso, credo che sia la cosa su cui tutti debbono ormai cominciare ad andare. Rimanere da soli non è più pagante, questo è poco ma sicuro. Avere la possibilità di avere una vasta area che può accogliere un evento così importante, credo che sia la cosa giusta a cui le amministrazioni debbano pensare. Grazie. 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 Grazie.